Sufficienza risicata per Salerno nei dati emersi da Ecosistema Urbano 2018, l'annuale rapporto di Lega Ambiente sulla performance ambientale delle città capoluogo realizzato con il contributo scientifico dell'Istituto di Ricerche Ambiente Italia. Salerno con la sua 54esima posizione in classifica raggiunge appena la sufficienza. La raccolta differenziata si assesta al 60%, sufficiente la qualità dell'aria. Nel capoluogo salernitano l'acqua immessa nella rete viene perduta in percentuale pari al 54,9%, a riprova di una situazione critica. Male l'offerta del trasporto pubblico, che viene calcolata con i chilometri percorsi annualmente dalle vetture per ogni abitante residente. Salerno in questo caso si posiziona in zona retrocessione per le città medie, con 15 chilometri vetture ad abitante. Sono 3,5 metri quadri totali di piste ciclabili, pare a 0,24 metri equivalenti di pista ciclabile ogni 100 abitanti. Sono 0,39 metri quadri di superficie pedonalizzate per abitante. A chiudere i 15 alberi su 100 abitanti esistenti in aree di proprietà pubblica.